Con questa amichevole con l'Arezzo si conclude il 2018 Presidente, intanto qual è il bilancio? Il bilancio mi chiamano anche positivo perché noi esattamente si pretendeva di avere un punteggio un po' tranquillo e sembra che sia stato abbastanza giusto per poter iniziare il nuovo anno e vederle a fine di maggio. Faremo i conti, il nostro obiettivo senza altro era la salvezza, poi se arriveremo lì a toccare le prime cinque della classifica. Tanto l'importante è che questa prima categoria è stata voluta fortemente e la squadra ha assunto proprio il passo che la categoria chiede. E quindi adesso si è conclusa questa amichevole, un regalo ai ragazzi? Sì, sì, si è fatto proprio per fare questo sgambetto, per fare il fine anno e inizieremo con il nuovo mese e il nuovo anno e vedere se ci promette ancora un pochino meglio, saremo più contenti. E l'importante è fare gli auguri a tutti, ai tifosi, appassionati. Noi facciamo gli auguri a tutti, a chi è presente, al nostro intervistatore e tutto il resto dello staff. Grazie Presidente, tantissimi auguri. Grazie.